Gassendi è un bellissimo cratere adagiato sul bordo settentrionale del mare Omorum, intitolato all'astronomo e matematico francese Pierre Gassendi. Le pareti sono di altezza variabile, più alte a occidente, si alzano in media circa 1,8 km rispetto al fondo. Quelle meridionali sono meno alte e rose dalla lava proveniente dal mare Omorum. In effetti il tono grigio del fondo del cratere è più scuro in questa parte rispetto al resto del cratere, come quello del mare, segno di una maggiore presenza di rocce basaltiche di origine lavica. Periodo di formazione Nectariano. Le dimensioni sono 114 km di diametro o 67 miglia. Longitudine 39,9 gradi ovest. Latitudine 17,5 gradi sud. Quadrante di sud-ovest. Area regione denominata del mare Omorum. Caratteristica di Gassendi è una grande varietà di aspetti. L'altezza del sole e la conseguente diversità dell'angolo di illuminazione determinano una grande diversità del paesaggio. L'interno di Gassendi è estremamente complesso, interessato com'è da innumerevoli fratture, dette rime. Il fondo è ricco di craterini di varie dimensioni. Il picco centrale è complesso, costituito da almeno tre elementi. Il bordo settentrionale del cratere è occupato da Gassendi A di 33 km di diametro, un cratere giovane di forma vagamente esagonale, profondo 3,6 chilometri, con un fondo complesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.